Si sta preparando E' partito, calvissimo Per superare Monti bisogna discendere con un tempo da record mondiale Con stile perfetto e velocità vertiginosa Curva versi Rettifilo sento Curva bel vedere, perfetta Ecco la curva Antelao Alla quale segue la curva Cristallo Ha invocata magnificamente Ne esce con esattezza Oramai il suo è un volo d'Aquila che cala irresistibilmente a valle Dove al traguardo la tende il trionfo Tempo totale delle sue 4 discese 5 primi, 30 secondi e 14 centesimi Miglior tempo assoluto Dalla costa e conti Medaglia d'oro conquistata per l'Italia A cui dà maggior lustro la medaglia d'argento di Monti e Alverano I due campioni si stringono la mano Mentre sul pennone sale il tricolore italiano Mang Nh heated up Hipportis Ma bella Ma bella Mi 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 Grazie a tutti.